E per il mio cinquantesimo compleanno il dolcetto lo potevo comprare? Assolutamente no! Quindi bando alle ciance, iniziamo a preparare questo meraviglioso pan brioche sofficissimo. Io ho utilizzato questo miele artigianale per aromatizzare il tutto. Quindi nella sciolta della planetaria mettiamo le farine con il latte, dove abbiamo sciolto il lievito ed il miele. Dopodiché aggiungiamo anche l'acqua, lasciamo impastare per benino. Aggiungiamo la scorza di limone che vi darà un profumino meraviglioso, che io adoro. Dopodiché proseguiamo aggiungendo appunto il burro fuso. Lasciamo impastare per almeno mezz'ora, dopodiché prendiamo il nostro impasto, lo lavoriamo un pochino, lo copriamo con della pellicola e lo lasciamo lievitare per almeno tre ore. Trascorso il tempo necessario, guardate la lievitazione meravigliosa. Sgonfiamo il nostro impasto e iniziamo a preparare le nostre palline. Quindi prendiamo una piccola parte del nostro impasto, andiamo ad allargarla un pochino con le nostre manine e aggiungiamo la farcia che preferiamo. Io in questo caso ho aggiunto in una parte la nutella e in una parte la confettura di arancia. Quindi andiamo a farcire, chiudiamo tutti i lembettini creando appunto una sorta di pallina. L'andiamo a rilavorare con le mani per renderla più liscia ed omogenea e andiamo appunto a formare i nostri numerini. Io in questo caso ahimè sono 50 e quindi ho fatto prima il 5 e poi lo 0 naturalmente. Quindi il 5 è pronto, guardate meraviglia, con appunto la nutella all'interno. Guardate qua, pallina, 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 pallina e pronto! A questo punto passo allo 0 e uso appunto la confettura di arancia. Quindi allarghiamo il nostro impasto, mettiamo come al solito la nostra confettura, richiudiamo e formiamo tutte le nostre palline. Lo 0 è terminato, adesso andiamo a spennellarlo con del tuorlo d'uovo stemperato nel latte. Una volta spennellato il tutto io ho aggiunto degli zuccherini colorati. Facciamo riposare un altro pochino e poi possiamo infornare forno statico per circa mezz'oretta. Quando avremo raggiunto sopra una crosticina, diciamo non troppo scura ma neanche troppo chiara, il nostro pan broche è pronto per essere gustato. Adesso vedi procedo con il 5 e una volta cotti appunto li ho messi su un vassoio per poterli servire e li festeggerò insomma insieme alla mia famiglia. Una cosa molto semplice perché ragazzi, proprio oggi al giorno del mio compleanno, Mattia inizia gli esami di maturità, speriamo sia un segno buono. Questo è il mio pan brioche, ragazzi è so-fi-ci-si-mo. Un bacione a tutti da In Cucina con Forlina, vi aspetto sul mio blog e tanti auguri a me!